ciao bambini tra pochi giorni sarà la festa del papà il 19 di marzo e allora volevo proporvi un piccolo lavoretto semplice da regalare proprio al papà quello che vedete è l'omino cravatta vi serve il modellino dell'omino a cravatta che troverete sul sito una molletta quelle per il bucato io ad esempio l'ho colorata con un pennarello per renderla più carina voi se avete anche delle tempere la potete dipingere ed è la colla vinavil prendete il modellino lo colorate come più vi piace magari con i pennarelli io ad esempio l'ho colorato in questo modo come vedete qui poi lo ritagliate se non riuscite a ritagliarlo bene bene al limite vi fate aiutare dalla mamma una volta che avete terminato di ritagliarlo prendete la colla la spargete un po sulla molletta e incollate l'omino cravatta sulla molletta in questo modo ok questo lo potete regalare così com'è al papà oppure se non avete una molletta a casa a disposizione potete eventualmente trasformarlo in un segnalibri incollate l'omino cravatta su un cartoncino e poi appunto lo potete usare lo potete far usare al papà come segnalibro spero che il lavoretto vi sia piaciuto ci vediamo la prossima puntata ciao bambini